E dopo l'operazione sui Gratta e Vinci Fasulli, gli uomini della Guardia di Finanza di Ascoli sono tornati in azione, sgominando un imponente traffico di droga fra Bologna e la Costa Marchigiana. L'operazione si è svolta nei pressi del casello autostradale di Porto Recanati, ove i militari del comando ascolano hanno intimato l'alta ad un'autovettura con a bordo due marocchini, che con tanto di manovre spericolate hanno tentato di eludere il controllo. Fatto sta che gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e la perquisizione successiva ha consentito di rinvenire nel bagagliaio dell'auto alcuni panetti di hashish, pronti per essere distribuiti dai due nel territorio ascolano. In tutto sono stati sequestrati ben 7,4 kg di hashish, per un valore al dettaglio di circa 150.000 euro. Assieme allo stupefacente, gli uomini delle fiamme gialle hanno poi sequestrato l'auto, alcuni cellulari e le relative schede. I due uomini, che vedete nella foto, hanno 39 e 25 anni e sono stati arrestati e portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma i finanzieri ascolani non si sono fermati a quest'operazione. Sempre ieri sono stati fermati due albanesi di 24 e 20 anni che avevano con loro ben 123 grammi di cocaina purissima. La consistente lotta ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, condotta dal comando provinciale, ha portato sino ad oggi al sequestro di circa 11 kg di sostanze stupefacenti, quali hashish, marijuana, cocaina ed eroina, e il conseguente arresto di 34 persone. 51 sono state invece le denunce a piede libero e 157 le persone segnalate all'autorità prefettizia, numeri che testimoniano come l'allarme droga sia più alto che mai in tutto il territorio provinciale.